Musica Amici di Vairano Patenora, un saluto da Gigiarosa, ci vediamo sabato 27 agosto lì da voi in piazza Garibaldi con l'associazione Harmony per l'Art Music Contest non mancate, ci sarò io, faremo un gran finale con tanti gadgets e divertimento voglio vedervi tutti ballare e divertirvi con me, con Gigiarosa vi aspetto il 27 agosto, non mancate e per favore condividete questo video non per la mia faccia ma per l'evento, ci vediamo il 27 agosto la la la